andiamo andiamo ok buongiorno a tutti si inizia la giornata di ah non so parlare più in italiano adellante buongiorno vi presento alla signorina caro seviglia buongiorno sei parlare un po' in italiano un po' tutto tutto è possibile vabbè l'ha detto bene brava caro sei pronta a rispondere a tante domande? si secondo me non ha capito niente però si è dovuto togliere i tacchi e adesso questa è la vera altezza di carol carol dove sei? carol no 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 mi scusi per favore possiamo passare grazie che cosa mangerai oggi carol? la vera pasta italiana stava ricca la pasta Cher buonissima siamo pronti per andare a fare delle foto fantastiche all'arco della pace e al... al castello sforzesco vivo da troppo tempo in argentina ce ne sono dimenticato tutto adesso è il vostro turno venite con noi ci sono una polizia una polizia una polizia ora vamos a... morirnos de frio señorita dove stia mandando? a donde stiamo andando carolcita? che si no no siamo arrivati al castello sforzesco contentissima enamorada che non lo può credere che sia qui in Italia stai innamorata? si è innamorata di chi? di Italia siamo pronti per buttarci nella fontana adesso farò un tuffo come ho fatto nel primo episodio adesso vi mostro ce la faccio ce la faccio guardate che muscoli è buono ce la d'italiano è buono ce la d'italiano è buono ce la d'italiano oh oh oh